Convegni, seminari e incontri, ma anche teatro, musica e un laboratorio sul piacere sessuale. Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Napoli ha messo assieme eventi tematici che coprono un'intera settimana. Verso la prospettiva di una donna emancipata dai retaggi di una società ancora maschilista, si ispira il titolo dell'intera iniziativa. Tana libere tutte, perché basta parlare della violenza, di amore criminale, di femminicidio, cioè diamo un segno diverso, diamo un segno che la libertà femminile si può conquistare se si esce dalle tane, se si esce dai nascondigli, se si ha la forza di mettersi insieme e di dire basta. Quindi Tana libere tutte, che è questa voce un po' infantile dei giochi dell'infanzia, del nascondino, ha proprio questo significato che è rappresentato da questa immagine di Octavia Monaco, nostra grande artista ispiratrice, che è questa ragazzina che sale le scale verso la libertà, si rivolge in basso, guarda il suo passato e se ne libera. E quindi vorremmo che questa giornata avesse questo segno. Grazie.